Sappiamo che questa variante si sta diffondendo molto e che non è escluso che magari altre varianti possano tormentarci. Noi non vogliamo essere tormentati, vogliamo uscire da questa pandemia. Simbolo dell'Europa e della buona politica, così Francesco Ruscelli, segretario provinciale del Partito Democratico di Arezzo, ricorda David Sassoli, scomparso all'età di 65 anni. Presidente del Parlamento europeo, giornalista, politico, sei mesi fa era stato colpito da una polmonite causata dalla legionella, ma si era ripreso bene e aveva girato un video per smentire qualunque legame tra la malattia, il Covid o il vaccino. Prima di Natale la ricaduta e la disfunzione fatale del sistema immunitario. L'ultima visita in terra retina lo scorso agosto al Circo Lorenzino di Foiano della Chiana in occasione della campagna elettorale di Enrico Letta. È giusto che si discuta, è giusto che si discuta tra sindacati e imprese, è giusto perché noi abbiamo la necessità di non avere attività discriminatorie, su questo l'Unione europea è stata molto chiara, non attività discriminatorie, però nello stesso tempo anche un uso del Green Pass che possa essere utile per le riaperture ordinate, come quella appunto della scuola. Da te abbiamo imparato molte cose, prosegue Ruscelli, una nuova e necessaria visione dell'Europa, un modello di azione politica basato sulla razionalità e sulla passione, sul confronto e sulla disponibilità a cambiare, sulla politica intesa come contatto con le persone e capacità di rispondere ai loro bisogni, iniziando da quelle più deboli. Niente torri d'avorio per te, ma una costante presenza in mezzo alla gente.